Si è spento questa mattina all'età di 97 anni, dottore Ezio Mattiocco, sigillo d'oro della città di Sulmona. La città, l'Abruzzo, perdono una personalità di altissima levatura culturale, di non comune spessore morale, che con i suoi studi, estesi a un campo vastissimo della cultura cittadina e regionale, ha contribuito a arricchire la storia della città di Sulmona e della stessa nostra regione. Mattiocco va quindi annoverato tra le personalità di maggior spicco della cultura sulmonese, in segnata della massima onorificenza cittadina, conferita lì dal Consiglio Comunale poco più di un anno fa, il 2 settembre 2022. Medico dell'ospedale dell'Annunziata, fin da giovane si è dedicato, con passione, impegno attento, profondo, agli studi dedicati alla storia della città, divenendo autorevole, eccellente promotore di cultura. La Camera Ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Iacobucci, mentre le sequie saranno ufficiate domani alle 15.30 nella Basilica Cattedrale di San Panfilo.